Siamo alla stazione ferroviaria di Matrice, come vedete la ferrovia è stata interrotta e ci sono dei lavori che riguardano appunto la creazione di una galleria. Le persone di queste zone viviamo queste stazioni e si vedono chiaramente, non sono frequentate da nessuno perché ormai tutti si muovono con la propria automobile e poi sono talmente poche le persone che usufruiscono questi servizi che si capisce. La realtà è un'altra, è che queste stazioni saranno totalmente devastate con dei sottopassaggi che sono delle offese all'ambiente e al patrimonio paesaggistico perché delle cubature di cemento che fanno impressione, ma la verità è un'altra, che stanno raccontando poi che questa linea sarà elettrificata, cosa assolutamente impossibile perché le caratteristiche di quelle che sono le gallerie che reggono questa linea non permettono l'elettrificazione. Quindi saranno le solite locomotive a gasolio che continueranno ad inguinare, tra l'altro dovranno anche cambiare perché alcune di queste non possono essere esigenti al problema. Allora la domanda è a chi giova tutto ciò se sono stati eseguiti lavori per due anni regione e ferrovie per adeguare la tratta ferroviaria e dopo due anni non è stata aperta mai perché le ferrovie ha detto che loro ci vanno a perdere perché nessuno prende questo treno e all'indomani facciamo i lavori per la metropolitana e lo scalo ferroviario di Campochiaro dove c'era il lucro industriale 20 anni fa dove dovevano portare treni, sono stati smantellati proprio in questi giorni quei binari, ma allora chi vogliamo imbrogliare? Dietro c'è un imbroglio al paesaggio, all'ambiente, alla salute e in modo particolare alle tasche perché questa operazione è di diversi milioni di euro.